Non c'è un ambito in cui io mi ritrovo a lavorare in cui non possa pensare a un insegnamento che ho ricevuto in quegli anni. Comprensione musicale a 360 gradi. Perché offro una preparazione di base molto solida, qualsiasi sarà il lavoro che vorrete fare dopo, se continuare con la musica oppure altro. E una serie di materie come hanno liceo, che può essere filosofia, italiano, matematica, che secondo me comunque vi aiuteranno per quella che sarà per voi la vostra formazione di cultura generale. Questo liceo ho imparato anche ad affrontare la paura del palcoscenico, cimentandomi numerosi concetti sia da solista che in ensambla. Un ambiente, devo dire, molto accogliente che mi ha fatto sentire a mio agio e ho trovato degli insegnanti che mi hanno aiutato tantissimo. In primis ad avvientarmi in questo nuovo ambiente, in questa nuova scuola. Un percorso che reputo fondamentale per la mia vita. Mi ha aiutato infatti a crescere a livello caratteriale, ma soprattutto a livello musicale, grazie ai professori che mi hanno sempre incoraggiato nei momenti difficili. Se dovessi scegliere di nuovo una scuola superiore, io sceglierei di nuovo il liceo musicale di Novara, per la preparazione ottima che mi ha aiutato poi a conseguire tutti gli studi dopo il liceo. Questo indirizzo fa per voi se volete diventare musicisti oppure musicologi, tecnici del suono, organizzatori di eventi. Se sceglierete questa scuola potrete far parte di gruppi corali, orchestrali. Ho trovato un ambiente molto accogliente, degli ottimi compagni simpatici e dei bravissimi docenti. Sicuramente tutto questo insieme di esperienze mi ha aiutato per il mio inizio di carriera concertistica. La mia esperienza al liceo musicale Felice Casorati è stata fantastica. Ho conosciuto persone veramente bellissime, tra cui i professori e i compagni, e c'è stata questa atmosfera nel corso dei cinque anni veramente bella. Sono stati anni per me di svolta, perché implicitamente sono arrivata lì con una sola implicita richiesta. Ascoltatevi. I insegnanti mi hanno aiutato tantissimo a capire quella che effettivamente ora è la mia passione. E adesso mi sto diplomando presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Sto finendo il corso triennale e ogni giorno affronto questa nuova avventura che è la musica. Mi studio filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale di Vercelli. Ciao, io sono Daniele, ho 20 anni, studio piano forte al Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Ho scelto di intraprendere gli studi al liceo musicale, fin dalle medie, per approfondire quella che è la mia passione per la musica. Invece ad oggi sono iscritto a giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. E questo mi è stato possibile perché al liceo musicale, oltre allo studio di materie prettamente musicali, si è affiancato lo studio di materie come Italiano, Matematica e Filosofia che mi hanno permesso di intraprendere una carriera universitaria non legata al campo musicale. Grazie agli insegnanti di musica molto qualificati e alle innumerevoli esperienze professionali che il liceo mi ha permesso di fare ho potuto avere un'ottima formazione musicale pre-accademica. Ma non posso non sottolineare la serietà e la competenza con cui sono state affrontate anche le materie non musicali che hanno permesso a tanti dei miei compagni di intraprendere studi universitari non inerenti alla musica. Sono a mio terzo anno di astrofisica all'Università di Glasgow in Scozia. Essere parte del liceo musicale mi ha permesso di coltivare la mia passione per la musica, ma al tempo stesso di avvicinarmi ad altre materie, fornendomi tutti i mezzi necessari per affrontare un percorso universitario completamente diverso da quello liceale. E' un'ottore che avermi aiutato con il conservatorio, fornendomi nozioni e conoscenze che magari altri non hanno. Il liceo musicale organizza molti eventi, gite all'estero molto interessanti e personalmente mi sono trovato molto bene, è un bello ambiente. Ho avuto dei compagni meravigliosi e dei professori competenti e che sanno ascoltare gli alunni. Sono uno studente di giurisprudenza dell'Università Bocconi di Milano e un ex alunno del liceo musicale Felice Casorati di Novara. Ho deciso di intraprendere il percorso del liceo musicale per la mia grande passione per la musica e per il pianoforte. Che dire, negli anni passati al liceo ho avuto un modo di far maturare questa mia passione sino a portarla agli studi anche post maturità, infatti oggi frequento la civica a Milano. e questo grazie anche ai professori che mi hanno saputo ispirare non solo nell'ambiente musicale ma anche in tutt'altro. È un liceo di tutti gli effetti, quindi serve determinazione e dedizione sia nelle materie culturali che musicali. Se amate la musica, questo è il percorso che fa per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.